Nonostante le difficoltà legate all'emergenza, si è tenuto ugualmente ieri la seduta del Consiglio Comunale. Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19, Amassi Massise ha discusso e approvato all'unanimità la proposta di portare al 30 giugno la scadenza delle regolazioni unitari prevista per il 31 marzo. La nuova data serve a dare più tempo ai cittadini, nella speranza che nel frattempo, data l'impossibilità di recarsi a caffè e patronati, siano potenziate le modalità online per richiedere ISEE e per utilizzare Bitonto Digitale, strumento che potrebbe evitare lungaggini e assempramenti. La modifica del regolamento dell'imposta unica comunale non sarebbe l'unico provvedimento a cui si sta pensando. A valio possibili agevolazioni per cittadini e imprese in materia di Tari, COSAP e IMU, tributi locali e tutto ciò su cui il Comune può agire. Avanzata anche la proposta di destinare all'emergenza Covid-19, somme del bilancio di previsione, ipotizzato inoltre il pagamento in anticipo dei canoni locativi, anche in assenza del versamento da parte della regione. Palazzo Gentine è già a lavoro invece per congelare i canoni di occupazione per i mercati non svolti, provvedimento che si aggiungerà al blocco degli oneri di concessione per aziende edili, diventato già realtà. Rinunciare all'indenità, almeno nel mese di marzo, per destinare le somme a protezione civile e servizi sociali è la proposta di Franco Anattilla. Dal centro-destra, Carmela Rossiello avanza l'idea di ritenere esentasse il periodo dominato dall'emergenza coronavirus. Da Magliorano di Italia in Comune, infine, l'idea di un nuovo numero di telefono al quale qualsiasi benefattore può rivolgersi per fare donazione.